Assessore, e vorrei anche, diciamo, che Gianmarco esprimessi un saluto. Prego, Gianmarco. Ringrazio molto il professore Fosse, l'assessore, per le belle parole che ha avuto. Io vivo a Signa, anche se sono dell'Associazione di Scandicci, quindi sono un po' un profeta in patria, nel senso, sono tornato ora, ma sto giocando in casa, e la cosa è bella. La parola del dono io la credo fortemente. Io, le persone che scarabocchiano, che disegnano e dicono, lo faccio per me, non è per gli altri, è soltanto un mio discorso interiore, non ci credo. Se uno ha qualcosa dentro, è contento quando gli altri lo vedono. Se uno ha qualcosa da dire, ci vuole qualcuno che sappia ascoltare. Con umiltà, sono contento di questo bellissimo spazio che mi è stato concesso, e delle persone che sono venuti a trovare. Dunque, ricordo che abbiamo in corso anche un'altra mostra, in questo momento, che è a Marradi, la mostra di Alfredo Correani, Viaggio in Toscana, è la seconda edizione, è stata inaugurata sabato scorso, ed è stato un grande successo. Fra l'altro abbiamo provveduto a concedere le teste del socio onorario dei Modigliani al sindaco di Marradi, Tommaso Triverti, e alla critica d'arte letteraria Livietta Pedulli-Galeotti, che è in collaborazione con il Centro d'Arte Modigliani di diverso tempo. A proposito di Marradi, avremo l'onore, la prossima mostra, il 4 novembre, a Marradi, di avere una grande rassegna di Anna Maria Guarnieri, sempre su Etruria e Antichi Mondi, che porteremo a Marradi, e sarà aperta dal 4 novembre fino al 16. Quindi, ecco, vorrei solo aggiungere alcune cose sul profilo di Gianmarco, perché Gianmarco esercita la professione di architetto a Vernio, no? Però, diciamo, è interessato a tantissime cose. Intanto è un notissimo artista per quanto riguarda la pittura, la scultura e le installazioni. Poi, è anche molto impegnato sul versante della poesia, sentirete fra poco un inserto di poesia futurista, che del resto ha avuto grande successo anche in Francia, ebbe qualche difficoltà a leggerlo in francese, però gli amici francesi lo apprezzarono tanto nel novembre scorso. Il titolo era, appunto, vi scrivo solo un rigo, e quindi era «Je vous écris sur moi et moi» in francese, il titolo poi. E poi, diciamo, ha interessi che riguardano il cinema, il fatto di regia e sceneggiatura. Quindi, diciamo, veramente una ricchezza per il Centro d'Arte Modigliani, è un impegno importantissimo che poi, dico, si esercita anche nella dimensione, diciamo, ultracomunale di Scandicci, perché appunto siamo proiettati in varie realtà, Marradi, Alzigna e altri comuni, poi Firenze, quartiere 4, Villa Fogher, Villa Strozzi e Scandicci, in varie soluzioni. Tra l'altro contiamo per la conferenza del 10 ottobre prossimo su Nice che intervenga anche il nostro sindaco, Sandro Fallani, che so che appunto ha avuto un periodo di collaborazione e lo sta avendo tuttora con l'assessore Fossi. Per cui, ecco, direi che, diciamo, questi aspetti sono molto interessanti. E' molto interessante anche il percorso che ci offre Gianmarco con questa mostra perché, diciamo, è articolata intanto su i sette giorni della settimana che iniziano dal lunedì, che è questo della luna, fino alla, diciamo, della domenica, poi le sette solitudini. Quindi devo dedurre che Gianmarco, te hai un venerazione per il numero sette, che lo ripeti spesso. È un senso. È un senso, è un senso. Poi, naturalmente, a questo si aggiunge il quadro del vecchio filosofo che è lì nell'angolo, che ha ispirato la Locandina, con lo stupore di distere, e questa opera, installazione, che appunto riguarda l'interpretazione del deserto di Tartari. Vi ricorderete il gruppo dei militari che sta cercando di raggiungere la fortezza Bastiani, non arriva mai, poi. E quindi c'è questa interpretazione. Fra l'altro, noterete che questi dipinti, che sono di colori caldi, quando si entra nella galleria, nella sala, danno già il là alla mostra, perché poi, diciamo, dai colori caldi, si continua con i colori freddi. Da notare anche il versante umoristico dei suoi dipinti. Per esempio, un dipinto riguarda uno che annaffia i fiori quando sta piovendo. Quindi, diciamo, è un po' l'umorismo della vita anche. Per cui direi che è una lettura molto interessante che accompagnerà i visitatori durante la mostra. Io quindi ringrazio di nuovo Gianmarco, ringrazio l'assessore Gian Piero Fossi, ringrazio il cameraman, Maurizio Martini, che segue, appunto, documenta la serata, il collega del direttivo e il pubblico. Vorrei, da questa parte, Carlo Ciappi, che anche lui si interessa di critica d'arte, per cui, diciamo, vorrei un commento, Carlo, su questo. Allora, intanto vi ringrazio di essere stati brevi, perché, però, non vi impressionate, ho solo otto cartelle da leggere. Complimenti, complimenti in questa bomboniera. Oggi, per fortuna non c'è il caldo di 15 giorni fa, abbiamo veramente delle cose preziosi. E le cose preziose, e comincio dalla cosa più familiare, abbiamo il nostro presidente, che è instancabile, no, non è appropriato, è instancabilmente saggio, operoso, in questo diuturno lavoro per l'arte, che si è imposto 40 anni fa, e da 40 anni dirige il grande consesso di persone a cui piace l'arte, che è il Modigliani. Devo complimentarmi, e dico che ho grande ammirazione per lei, Assessore, perché ha fatto una sintesi con un linguaggio che raramente si sente parlare di cose fritte e rifritte. Lei ha trovato il concetto, il lessico, la garbatezza, la rapidità, l'essenza, in maniera eccezionale. Grazie, grazie, perché c'è bisogno oggi di questo, più di ogni altra volta, perché la comunicazione, voi della televisione, voi dei giornali, dei media, in tutto, ci strangolano. non c'è più una parola appropriata, non c'è più un concetto sintetico, ma penetrante. Io la ringrazio per questo, e spero che la sua serata sia molto illuminante, e spero che a Scandicci sia... perché c'è la fiera, e delle volte tira molto più la forchetta della cultura, eh? E poi abbiamo Gianmarco, Gianmarco, che... no, no, è riduttivo, è riduttivo dire il fratello minore, perché ci sarebbe troppo, però è una figura che mi piacerebbe avere come figlio. Io sono fortunatissimo perché ho un figlio meraviglioso. È avvocato, però è entrato nel personaggio. Non ha la libertà espressiva che piace a me come invece ha l'altro mio figlio, Gianmarco. Hai capito il senso che lo dico, eh? Gianmarco per me è stata una rivelazione nel Centro d'Arte Modigliani per le sue qualità, le sue qualità umane, di come è forgiato, che spingono a fare l'arte nella maniera in cui la fa. Quale arte? L'arte della poesia. L'arte attoriale. Forse lei non sa che sta girando, spero, l'ultima scena di un film che va avanti da tre anni, ma non per... Perché ora scena lui. Una cosa paradossale è questo film, però, insomma, quando viene faremo delle belle risate, ma non perché... proprio perché fa ridere. Non certo per l'interpretazione di Gianmarco, che è sublime, ma perché chi lo mette insieme, insomma, è un po' piaccicone, come si dice a Scandicci. L'arte di Gianmarco è l'arte di vivere, è l'arte di amare, è l'arte di dono, è l'arte di commuoversi, perché prima, a fine del suo discorso, si è commosso, ormai lo conosco. Questo vuol dire la grande semplicità di un artista che propone ogni aspetto di libertà e forse la libertà che lui concede a chi guarda le sue opere, a chi gli sta vicino probabilmente, e spero, che non sia mai, mai confusa con qualcosa di altro. questa sua libertà del concedere, questa sua nobiltà d'animo, sicuramente illumina con le sue opere, ma anche col suo fare, col suo dire, col suo tacere, con le sue pause, con la sua comprensione, gli altri, chi gli sta vicino o chi lo conosce per la prima volta. Abbiamo quel dipinto che sa Gianmarco quanto mi piace, perché forse perché la mia età ormai siamo lì, ma poi ci si alleggerisce guardando una grande fiazza